Questa invece è un'altra canzone molto bella, non so se qualcuno di voi conosce Ray Price Ray Price era una delle voci più belle della musica canti, era un country crooner era uno di quelli con una voce molto calda e suolente, una voce bellissima io adoravo come lui cantava, adoravo come lui proponeva i suoi brani, le sue interpretazioni e tutto quanto mi ricordo questa canzone, questa canzone io amavo suonarla e cantarla alla mia primissima fidanzata mi ricordo una cosa molto dolce, mi ricordo una volta stavamo andando per la prima volta in vacanza assieme andavamo in montagna, lei però apparteneva una famiglia molto chiusa, molto tradizionalista non voleva che noi andassimo da solo e quindi ci hanno seguito ed è stata comunque una giornata piacevolissima, siamo stati in montagna, siamo stati insieme abbiamo fatto delle passeggiate, siamo andati per boschi, abbiamo cenato, abbiamo franzato la sera io sono stato seduto davanti al cammino con la mia chitarra e le ho cantato proprio questa canzone, è stato un momento che ricordo la presente nella mia vita fino a quando è arrivato il momento di andare a letto finalmente e a quel punto è sceso suo padre e non ha voluto per nessun motivo che noi dormissimo insieme e io ci sono rimasto veramente male, sono rimasto proprio deluso anche perché lui era veramente un bell'uomo come adesso andate a voi questa canzone grazie a tutti 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 grazie a tutti